Ho chiesto a Noiz Narcos che consiglio darebbe a un ragazzo che oggi vorrebbe fare il rap Innanzitutto devi sapere rendersi conto se realmente ha le capacità e le skills per farla perché tante persone, là io voglio fare l'astronauta, io voglio fare il calciatore però non so buono a giocare a calci stai mezzo dicendo delle cose agli altri quindi comunque sia non è che arrivi da scendi dalla montagna del sapone e ti metti a fare il rapper comunque un po' la devi sapere la vita come cazzo gira per dire qualcosa di intelligente alle altre persone se no comunque ne fai tre canzoni poi hai esaurito gli argomenti tanto adesso i ragazzi quello vogliono fare o il calciatore o il rapper o la star o il tiktok nessuno vuole lavorare un po' che ti resta che non sei manco montana mensola magari perché gli anni tuoi migliori della vita l'hai passato a voler fare il rapper poi effettivamente non sai fare un cazzo capito io sono 15 anni come altri colleghi miei che facciamo musica, 20 anni e ancora la gente se la sente non è che voglio dire che siamo supereroi No avete vissuto Abbiamo vissuto, bravissima, ottima risposta Grazie mille Noiz Grazie a te, bravissima